Salve a tutti amici, in questo video vediamo come realizzare un effetto di pittura liquida su Adobe Photoshop CC. Questo è come verrà più o meno, ma dipende da voi, e questo è creato da zero, altrimenti vedremo come farlo anche su un'immagine già esistente. Cominciamo subito. Allora, innanzitutto creo un nuovo file, file nuovo, delle dimensioni che voglio, quindi questa ad esempio, contenuto di sfondo bianco, quindi qua mettiamo bianco, contenuto sfondo, e facciamo crea. Ed ecco qua. Allora qui possiamo lavorare. Allora ci basta utilizzare il pannello filtro, rendering, nuvole. Ed ecco qua. Adesso facciamo filtro, fluidifica, e dobbiamo selezionare questo strumento in alto a sinistra, lo strumento altera avanti. Quindi diminuiamo un po' le dimensioni, vediamo un po' così, e cominciamo a girare, vedete, coprendo qua il trasparente, in modo creativo. Possiamo cambiare più volte anche le dimensioni del pennello. E questo è il nostro effetto di pittura liquida. Quindi agite nel modo che preferite, stanno attenti a non mostrare parte di trasparente. Consiglio di fare sia dimensioni grandi che dimensioni piccole, per creare un effetto più avanzato. Qui stanno andando a scatti perché ho troppa roba aperta. Ok, quindi adesso... Quando sono a posto faccio ok. A questo punto creiamo, qua giù in basso, un nuovo livello di riempimento o di regolazione. Quindi clicchiamo qua su questo simbolino e scegliamo mappa sfumatura. Clicchiamo su questo rettangolo. E qua dobbiamo cambiare il colore a sinistra e a destra per creare la nostra sfumatura di colore. Quindi qui bisogna capire che cosa volete fare. Quindi clicco qua, ad esempio, perché io voglio fare doppio clic, una sfumatura che va dal rosso, ad esempio, al verde. Quindi a destra, clicco qua su questo quadratino, doppio clic, e metto il verde. Ed ecco che abbiamo creato la nostra sfumatura dal rosso verso il verde. Altrimenti, non so, facciamo doppio clic, blu. Vedete adesso è blu verde? Cambia ancora qui, doppio clic, la facciamo gialla, blu giallo. Insomma facciamo ok, ed ecco qua il nostro lavoro di pittura liquida. Adesso però proviamo a lavorare su un'immagine già esistente. Quindi questo è il primo sistema. Andiamo qua sulla nostra immagine. Io voglio, ad esempio, fare un effetto di pittura liquida su questa texture. Bene, ci basta fare filtro, fluidifica, ecco qua, e fare la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Quindi cliccare su questo strumento, altera avanti, e cominciare a girare, così, per creare questo effetto. Vedete che su un'immagine già esistente viene qualcosa di ancora più figo e creativo. Forse più realistico, però volevo mostrarvi anche il primo sistema. Ed ecco qua, quindi abbiamo fatto questo effetto di pittura liquida. Facciamo ok, ed ecco qua. Quindi spero di essere stato utile, un saluto a tutti.